Hanno 5 e 10 anni e sono loro, al momento, quelle che stanno sostenendo il peso maggiore di quanto avvenuto alla fine dello scorso ottobre, quando il loro padre, Ernesto Ienco, un imprenditore 31enne, venne ucciso a fucilate a Riace mentre rientrava a casa, di ritorno da un matrimonio. In carcere, accusata di essere la mandante dell'omicidio, c'è la loro madre, Sabrina Marziano, 28 anni, mentre ad avere seguito materialmente l'assassinio sarebbe stato l'amante Agostino Micelotta, 21 anni. Da quel giorno le due piccole, Jasmine e Caster, sono a casa dei nonni materni, in cui si trovavano dal giorno prima del delitto. Da tre mesi il Tribunale dei minori di Reggio Calabria non ha preso alcuna decisione sul loro affidamento. La sorella di Ienco ha presentato istanza al giudice per averle con sé, ma il Tribunale ha investito della questione il comune di Riace, che ha preso tempo. Fino ad oggi, quando Domenico Lucano, primo cittadino della comunità di poco più di 1800 anime, ha deciso di parlare e di denunciare qualche anomalia. A suo dire, gli operatori dei servizi sociali dell'ASP e del distretto di Locri starebbero subendo una sorta di impostazione clientelare. Un'accusa grave, di cui ha intenzione di parlare con il giudice di Reggio Calabria, al quale spetta la decisione finale sull'affidamento di Caster e Jasmine. In quello che è un braccio di ferro fra i genitori della presunta assassina e la sorella della vittima, Lucano vuole scongiurare l'ipotesi di portare le piccole in una casa famiglia. Tiziana Bagnato per la CNews 24.